Gary in versione muscolare oggi con una bellissima maglietta che stavo per mettere anch'io però poi ho detto no la sporco invece oggi invece oggi era oggi era l'ideale la maglietta la prima maglia maglia nera a maniche corte bianca invece che nera oggi le abbiamo tutte manca solo abbiamo la storia di maglia nera la storia la storia di maglia nera era chiusa in 5 maglie è sempre un bel ritornare qua ho prenotato al pranzo prenotato per luna il pranzo così siamo tranquilli siamo tornati a Finkestein sui sentieri di lake bike esattamente al Baumgartnerhof che è una delle loro base camp e stiamo andando a fare il flowgartner trial e poi il lowgartner trial che sono questa serie di sentieri flow molto ritmici e ricavati in pochissimo spazio hanno ricavato un paradiso ci fosse un impianto di risalita sarebbe ancora più paradisiaca la cosa lo apprezzeremo molto grazie lake bike quando farete un impianto di risalita va bene anche uno skillift va benissimo anche una mano via qualsiasi cosa un tappeto di quelli un gancio qua la pendenza inizia già ad impennarsi ma fra un po inizierà a diventare ripidissima ecco lo stacco potente qua diamo un rapporto adeguato quello l'ultimo proprio la cosiddetta marcia funebre come la chiamava cecchetto quanto meno la temperatura è gradevole bene basta parlare ciao sangue che dice. E' questo diventa 20. E' finita tecchina... Opa! Grazie a tutti. 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 Malo ai polpacci, male a tutto. Adesso andiamo a fare il low garner trail. Qua ci sono le porticine delle pecore da aprire. L'hanno tolta? Han tolta? Han tolta le pecore? E poi, oh,鉄o e... Grazie a tutti. 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 Diego è davanti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, il primo pezzo l'abbiamo passato. Oh, qua. Vabbè, solo con un piedino giù, solo un piedino giù. Ah, sta un piedino giù, solo un piedino giù. Un piedino giù, solo un piedino giù, solo un piedino giù. Bella, è un piedino giù. Un piedino giù, solo un piedino giù. Oh, che figata, che figata, che figata, che figata che è questo. Un piedino giù. Oh, è un piedino giù. Oh, è un piedino giù. bello a scivolare da tutte le parti e mi sono ricordato che ho chiuso le sospensioni per fare il flow ci sta ci sta abbiamo anche la saff cicloturismo oggi sul flow garner trail francesca della saff cicloturismo ciao a tutti com'era bellissimo bello si è divertente però molto divertente adesso fate anche il low garner trail esatto ok ecco il low garner trail è un filino ha le curve un po più secondo me meno ampie sono un po più strette un po più spondate mantenere la velocità è un po più difficile e qui è più facile mantenere la velocità però ecco qua che arriva un altro è anche mario and company bene quindi fa piacere vedere su questi sentieri anche la compagine della saff bene bene era per farmi accostare per un pelo decollava a proposito di video un saluto visto che ho ripreso francesco aveva detto che c'è la saff cicloturismo dalla saff cicloturismo al flow garner trail avete spatriato anche voi oggi ogni tanto si capta avete spatriato anche voi oggi bene ha fatto a conoscenza di massimo bene bene gran giornata sì 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 adesso si annuvola però dai adesso noi andiamo a mangiare voi invece proseguiamo proseguite sui sentieri bene ora io vi aspetto rinnovo l'invito a in maniera ufficiale davanti alla telecamera quando volete a venire a vedere i sentieri nostri facciamo un getto assieme facciamo una mangiattina rendiamo una giornata in pieno stile maglia nera che prevede mangiare e bere per noi è così bene bene magnato abbiamo magnato anzi raidato abbiamo raidato magnato abbiamo magnato adesso viene la pioggia mario ha dato lezioni al mio ex collega ma sai che ti voglio bene bene alla prossima e come sempre andate in grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti